Ci troviamo nella spiaggia di Cattolica, l'estate è iniziata e tutto sembra essere tornato come prima. La spiaggia di Cattolica, l'estate è iniziata. 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 Hotel Cesare è aperto e vi aspettiamo a Cattolica. L'hotel Embasi è aperto e vi aspettiamo a Cattolica. L'hotel Belmar è aperto e vi aspettiamo a Cattolica. L'hotel Belmar è aperto e vi aspettiamo a Cattolica. Le vacanze quest'anno si fanno in Romagna, mi raccomando, vi aspettiamo a Cattolica.